Massimo, eccomi. Qui c'ha deduto moto, macchine, cambio, pezzi di ricambio. Franco, senti noi stavamo a cercare i pezzi di ricambio della moto. Che modello è? Mo tornamo, eh? Sei, sette, otto, nove. Ma che sta a contare? E quattro deve essere la macchina. Uno, due, tre, e quattro. Ecco la macchina. Non mi interessano più i pezzi di ricambio qui, da modo. L'abbiamo trovata. Chiama i carabinieri. C'è bisogno. Buongiorno. Buongiorno. Che ci fa lei qui? Eh, cercavamo dei pezzi di ricambio per la moto. E siccome che si è sfasciato, ho raggiunto cardanico dalla moto al tuo massimo. Guardi. Scusi. Ma questa è la macchina di Barbagallo? No, è uguale a quella di Barbagallo. Deve essere stata di Agnese o del fidanzato. Guardi, anche le prime cifre della targa sono uguali. È una coincidenza. È questa la macchina che il vicino ha visto a casa di Barbagallo? No, la Barbagallo è veramente innocente. Ho aperto il PM. Ho aperto il PM. Ho aperto il PM Ci servirà! Maria Superfici Già Ecco Ciao, Polizei. Grazie.